Oggi vi sveliamo come pulire i carciofi con dei semplici trucchi della nonna. Il primo step consiste nell'eliminare le punte e le spine considerando circa 2-3 cm, poi gambo e tutte le parti filamentose esterne. Lo step successivo è quello di togliere le foglie più esterne, fino a raggiungere il cuore dell'ortaggio, ovvero la parte più tenera. A questo punto togliamo la barba. Possiamo lasciare il carciofo intero e scavarlo all'interno, oppure tagliarlo a metà e togliere la barba con l'aiuto di un cucchiaino o di un cortello. Terminata la pulizia dei carciofi, passiamo subito allo step successivo, ovvero li immergiamo all'interno di acqua fredda insieme al succo di limone, per evitare che si ossidano e se ne riscano.